No, non è davvero troppo dolce la nostra cassata. La nostra cassata negli anni è stata migliorata, è stata migliorata e come? È stata migliorata, è stato tolto prima cosa il colorante, l'essenza, quindi non ha più quel colore verde. Adesso abbiamo tagliato con della farina di pistacchi e farina di mandro, quindi il colorante è stato tolto. Lo zucchero, anticamente veniva fatto un chiodo di ricotta, 700 di zucchero. Oggi è stata abbassata più del 50%, abbiamo dai 300 a 350 grammi di zucchero per chilo sulla ricotta. Abbiamo, non c'è più quel marzapane dove una volta veniva fatto quattro parti di zucchero, tre parti di zucchero e una parte di mandorla. È stata migliorata, poi vabbè i nostri canditi sono stati tolti i soffiti, abbiamo un prodotto sicuramente oggi molto d'eccellenza. E poi la tradizione maestro? La tradizione sicuramente è una di quelle cose che da noi non va migliorata, ma non va tanto cambiata. Ricordiamo che questo dolce è per noi la regina dei dolci siciliani, per noi la cassata è un'istituzione. E per questo avevo chiesto di fare un disciplinare per evitare questi commenti, perché oggi ci troviamo a vendere cassate da 20 euro e trovare cassate nel mercato a 6 euro chilo. Sicuramente la cassata di 6 euro chilo, 10 euro chilo non avrà mai gli ingredienti di una cassata da 20 euro chilo. Lì sì, che è un prodotto dolce e zuccherato come ha detto il maestro Massari. Per chiudere, i turisti principalmente cosa vi chiedono quando entrano nella vostra pasticceria? Il turista quando entra la prima cosa che ci chiede sono cannoli e cassata. Cioè per loro è un dolce da portare in viaggio, portarlo nelle loro case e far conoscere questo prodotto e questa bellezza barocca che noi abbiamo. Abbiamo